e così 5 4 3 è già partito sai forse e ragazzi siamo in live 130 a 30 martingari stare molto sicura sto laggando un botto perché è come il lago perché sta caricando il video e il video che stacca connessione al telefono come l'acqua porco pizzo cazzo è quello oh porca troia dai va bene ma che cazzo è vera che suicida che suicida padre 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 doppia doppia è rimasta l'emorragia e non ci andando l'ha ammazzato vai ma che stacca con un botto ma come hai detto non è morto è ben ditta l'emorragia ah va tanto muore ma dove cazzo è ma non c'è lì sopra buttante l'arragia doveva morire ma non capisco dove possa essere ecco va un mongolo non solo chi l'avevate vinta questa calamita è pronto? si ragazzi siamo in live spettatori zero ancora? si ragazzi siamo sul rainbow sto facendo un po' caccare ora a parte che prima vabbè grazie a tutti 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 grazie a tutti